Gara 2 dell'Euro Formula Open dal circuito de Catalunya, vamos dalla pole position per Tappenatori, pilota giapponese del team Carlin che dopo una strabiliante prestazione nelle prove ufficiali mantiene la leadership della corsa in curva 1 su Nicola Echiergaard, Billy Monger che dalla quarta piazzola in griglia ha avuto la meglio su Christian Hahn, il onboard di Tsunoda che è riuscito ad avere la meglio su Lucas Danner, dunque la rincorsa del pilota giapponese per le posizioni di vertice, il confronto per quanto riguarda le posizioni di rincalzo, l'ultima piazza fra Callan Williams e Rui Andrade, una corsa che non ha dato grandi soddisfazioni dal punto di vista dello spettacolo ma importantissima dal punto di vista della prestazione sportiva con il podio di Billy Monger in terza posizione sempre all'inseguimento di Nicola Echiergaard danese che tuttavia non è riuscito a mettere sotto pressione il compagno inquadrato qui giapponese Tappenatori che conquista la prima posizione sul primo gardino del podio in vittoria assoluta, la prima del nipponico che si aggiunge ai protagonisti del sollevante Marino Sato, Yuki Tsunoda e Oio che hanno segnato il proprio nome nell'albodoro dei vincitori dell'Euro Formula Open. Grazie a tutti Grazie a tutti